Buongiorno e benvenuti su meteogiuliaci.it. Oggi sabato 22 dicembre ancora nubi e piogge sulle regioni del Medio Adriatico e al sud sulla Sicilia per la coda della perturbazione numero 8 che è giunta nella giornata di ieri sulle regioni meridionali. Nubi anche sulle regioni di nord-ovest in aumento nel corso sempre della giornata per la coda di un'altra perturbazione la cui parte più intensa però transiterà a nord dell'arco alpino. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete sia la nuvolosità che interessa le regioni meridionali e che appartiene alla coda della perturbazione numero 8 sia questo altro corpo nuvoloso che si avvicinerà alle regioni settentrionali la cui parte più intensa però transiterà a nord dell'arco alpino. Andiamo a vedere allora il tempo per la giornata di oggi. Nubi sulle regioni del Medio Adriatico al sud con piogge e qualche rovescio. Queste precipitazioni però tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio e a localizzarsi soprattutto sulla Lucania, sulla Salento, sulle regioni ioniche della Calabria e della Sicilia. Cielo in genere poco nuvoloso al centro e sul nord-est. Nubi invece in aumento sulla Liguria e sulle Alpi con qualche debole nevicata sulla Val d'Aosta oltre i mille metri. Segnaliamo anche le nebbie fitte soprattutto al mattino su tutta la Val Badana. Per quanto riguarda le temperature queste saranno su valori in genere tra i 5 e i 7 gradi al nord fino a 12 gradi in Liguria, tra 8 e 14 gradi al centro e tra 12 e 16 gradi al sud sulle isole maggiori. Staranno in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri. Bene, termino qui. Vi ringrazio per l'ascolto ancora una buona giornata.